Buonasera a tutti, sono Campisano Raffaele, presidente del gruppo Eventi Falerna, il gruppo nasce per sopperire alle carenze che ci sono state in questi ultimi dieci anni, visto l'amministrazione precedente che in pratica ha fatto il nulla in questo paese e quindi ci siamo rimboccati le maniche per fare qualcosa di utile per il paese. L'associazione nasce per promuovere il territorio, fare conoscere le nostre tradizioni in giro e spero che ci stiamo riuscendo, questa serata è l'ultima per quest'estate e purtroppo quest'anno come diceva Pepe siamo partiti in ritardo per via delle elezioni che sono state in pratica a giugno, quindi il tempo è stato poco per poterci organizzare. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione per tutto il supporto che ci ha dato e volevo invitare tutti quanti a venire a Falerna, da quest'anno sempre insieme all'amministrazione comunale è partito un nuovo progetto, un albergo diffuso dove abbiamo già avuto un riscontro molto positivo, speriamo che il prossimo anno andiamo a migliorare sicuramente. Grazie.